Camer, ristrutturazioni di interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Monsignor Dario Edoardo Viganò, Assessore della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e Professore Ordinario di Cinema, ieri a Sondrio per il Seminario di Formazione sul tema Leggere le Immagini. Organizzato dall'Ufficio Scolastico Territoriale in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale della Scuola della Diocesi di Como, il convegno si è svolto nella Sala dei Balli del Credito Valtellinese davanti a un gran numero di docenti. Sono molto contento di vedere questa splendida Sala dei Balli che la Fondazione Credito Valtellinese ci ha messo a disposizione, piena, in una giornata che è considerata giornata di vacanza, giornata di riposo, vedere insegnanti che si formano su un tema importante come quello della lettura delle immagini. Fornire agli insegnanti quegli strumenti necessari per spiegare ai ragazzi come si legge correttamente un'immagine, l'intento del workshop. Spesso le immagini da sole rischiano di confondere e non riescono a trasmettere il messaggio vero e proprio. Abbiamo messo in comune un'esperienza molto importante che è quella dei professori, dei docenti delle scuole rispetto al tema delle immagini a cui ho dato semplicemente qualche suggerimento, qualche provocazione, qualche approfondimento perché penso ad esempio ai nativi digitali e al loro lavoro di mash-up, di reworking, cioè di rilavorazione dei segmenti audiovisivi che trovano in rete nei quali lasciano molte tracce della loro identità. Il problema non è ciò che comunica un film, ma come dice ciò che dice. Secondo Viganò bisogna arrivare a percepire il film come un terreno di gioco strategico. Il cinema non veicola solo dati e informazioni, ma è molto di più. Si è avvalso anche della proiezione di due pellicole per cercare di far comprendere agli insegnanti il linguaggio delle immagini. Marni di Alfred Hitchcock e Nostalgia di Andrei Tarkovsky, i due film utilizzati. Il primo è un manuale di linguaggio cinematografico. In Nostalgia, il regista russo ci fa capire attraverso lo stesso movimento di macchina, una carrellata, che due personaggi molto diversi, come il poeta e il folle del paese, in realtà hanno degli elementi in comune. La poesia e la follia sono infatti due aspetti di inquietudine rispetto alla società. Uno sguardo, inoltre, sul futuro e sul rapporto dei ragazzi di oggi con le immagini. Le strutture narrative sono modificate molto. Pensiamo ad esempio al grande sviluppo e anche ai grandi successi delle serie televisive, non necessariamente italiane, anzi quasi mai italiane, penso a quelle inglesi, statunitensi, eccetera. E sono forme molto più brevi che possono essere consumate con delle audiences in mobilità. E questo fa riferimento anche a uno sguardo che fa fatica a sostenere una storia complessa e lunga. Siamo in un'epoca in cui un film per i giovani è ritenuto lungo. Si prediligono clip e brevi filmati, dove l'informazione è semplificata e condensata. Molti ragazzi abusano delle immagini. Sono protagonisti di video che circolano in rete, a volte inconsapevolmente.